Nel contesto di mercato favorevole prodotto dal ridimensionamento dei rischi politici in USA dopo la vittoria di Biden alle elezioni presidenziali e dagli annunci relative ai vaccini anti-covid che proiettano il ritorno alla normalità nella seconda parte del 2021, il tutto potenziato da un mix di politiche economiche super accomodanti in giro per il mondo, non sempre è portata all'attenzione degli investitori l'importante dinamica di indebolimento del dollaro non solo contro euro. Si tratta di una delle caratteristiche del reflection trade che stiamo vivendo e che pensiamo sia destinato a continuare nei prossimi mesi. Il biglietto verde in depreciamento è un fattore pro rischio perché produce un allentamento ulteriore delle condizioni finanziarie, aiuta i paesi emergenti più indebitati e sostiene le materie prime alimentando il rafforzamento del ciclo economico mondiale nei prossimi mesi. Il trend valutario in atto continuerà sospinto dal decumulo dei rischi armi precauzionali da parte delle famiglie americane, dal deficit pubblico federale elevato, dal crescente disavanzo delle partite correnti, nonché da tassi di interesse statunitensi che hanno ormai perso il premio di rendimento di cui lungamente hanno goduto a causa delle eccezionali misure monetarie adottate dalla Fed. Il rafforzamento della moneta comune costringerà poi la BCE a inseguire la Fed nell'accomodamento per proteggere la ripresa nel continente.